Ancora attenzione tra extracomunitari che suscitano paura tra cittadini e residenti. L'ultimo episodio è in località Campolongo, dove una lite fra due cittadini marocchini è degenerata causando il ferimento di una persona. Secondo le prime discrezioni, un uomo sarebbe stato colpito con un coltello. Sul posto sono intervenuti volontari del 118, che hanno trasportato il ferito all'ospedale Maria Santissima e Dolorata, e i carabinieri della locale Compagnia, che indagano sul caso. Invece, sempre nei weekend, nel centro storico sarebbero state tre ore di guerriglia, suon di bottiglie e di pietre lanciate nelle finestre e sui balconi delle case. È quanto denunciato ai carabinieri da un cittadino italiano residente nel centro storico di Eboli. L'episodio adesso è tensionato dalle forze dell'ordine.